Musica Buonasera gentili amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Vado subito a presentarvi l'ospite di questa puntata, prima volta nei nostri studi, per Claudia Bosio, responsabile dell'ufficio legale di Confagricoltura Mantua. Buonasera Claudia, benvenuta. Grazie. Allora, parliamo in questa puntata di uno dei tanti servizi offerti da Confagricoltura Mantua, nello specifico parliamo dei contratti di affittanza agraria. Quindi spiegaci un po' se ci sono delle date, di cosa si tratta, qual è il servizio offerto. Sì, allora, si è concluso da pochissimi giorni, si è conclusa diciamo la tappa più importante per quanto riguarda il nostro ufficio legale, che è l'11 novembre, ovvero la data di stipula dei nuovi contratti di affittanza agraria. In questi giorni i nostri soci, proprietari ed affittuari, stanno stipulando appunto i contratti, rinnovando un po' quelle che erano le condizioni dei precedenti oppure instaurando nuovi rapporti per quanto riguarda le prossime annate. È stato un periodo particolare, un'annata particolare, legata soprattutto all'emergenza Covid. Nonostante però, possiamo dire, le sospensioni dei termini piuttosto che proroghe, i contratti di affittanza hanno fatto il loro corso e sono appunto volti al termine, a ridosso della fatidica data che è quella che è San Martino, insomma, l'11 novembre. Abbiamo cercato dal canto nostro di apportare quanto più possibile la fattiva assistenza, come previsto dall'articolo 45 della legge 203 dell'82. Ci siamo un attimo dovuti reinventare con la impossibilità, insomma, di presenza contestuale fra parti e organizzazioni, quindi con lo scambio di documenti in via telematica piuttosto che videoconferenze. Quello che auspichiamo è che comunque il servizio sia stato adeguato e all'altezza delle aspettative dei nostri soci. Ecco, quindi dobbiamo dire che nonostante il periodo di difficoltà oggettive per tutti, è positivo il fatto che non ci siano state proroghe, non ci siano state sospensioni, quindi che il lavoro sostanzialmente sia andato avanti da questo punto di vista. Ecco, ricordiamo che ovviamente per tutte le persone che dovessero avere necessità per la compilazione, poi insomma tutto l'iter di compilazione appunto dei contratti di affittanza agraria, si può rivolgere, si possono rivolgere ai vostri uffici dedicati. Perfetto, allora ringraziamo Claudia Bosio per essere stata nostra ospite e agli amici a casa invece diamo appuntamento come di consueto. Alla prossima settimana, arrivederci. 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 La fortuna sosta erano, Alla prossima settimana, Triple High العائ병E,